Mister Lucio Brando, naturalmente da questi amichevoli, soprattutto dalla prima, non si possono trarre particolari indicazioni, però ci spieghi un po' il lavoro che è stato fatto in queste settimane e come hai visto i ragazzi in campo oggi? I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, insomma, è uno spirito di squadra che vuole cercare di mettere in pratica. Oggi ci siamo riusciti tantissimo, è una cosa messa anche abbastanza in preventivo, abbiamo ancora tanto da lavorare, dobbiamo ancora fare tutti i lavori sulle palline al filino, stamattina abbiamo fatto salite, è normale entrare un filino in difficoltà, brillanti non lo siamo stati di certo, però ci mancherebbe ancora che siamo brillanti al 2 di settembre, quando il campionato inizia a fare 25 giorni. Sicuramente dobbiamo continuare il nostro lavoro, con grande serenità, ed è ovvio che in queste pratiche, perché il giocatore, giustamente, deve accogliere l'occasione per me che sia in evidenza. Grazie Mister. Grazie.